Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo episodio dell'Ultimate Decades che come avrete notato ha slittato di qualche giorno questo perché se mi seguite sui social saprete che e tra l'altro mi sa che l'ho scritto anche qui su Youtube nella sezione community che ogni tanto andate a spulciare vi esce comunque la notifica, il pallino rosso quando vi metto delle novità e vi avevo appunto scritto che nei giorni scorsi non avevo avuto voce sono stata praticamente afona infatti devo cercare di non urlare come un'oca giuliva come tutte le volte ma questa volta mi è impossibile ragazzi innanzitutto mentre vi parlo sono usciti proprio qualche giorno fa i due nuovi kit di cui vi ho parlato abbondantemente in una live che abbiamo fatto giovedì sera c'è il video dedicato e vi ricordo ragazzi di usare il mio codice ALESWITESIM qualora stiate facendo acquisti sia su IeApp che sul sito di TheSims.com a voi non cambia nulla, vi basterà inserirlo come codice tipo codice sconto, non so una cosa del genere in realtà non vi dà sconti ma vi dà la possibilità di supportare me e la nostra community quindi fa sempre tanto tanto piacere ed è assolutamente molto utile detto ciò ragazzi cominciamo subito perché io non so come altro dirvi che questo è l'ultimo giorno prima della peste sì ragazzi stiamo parlando di sabato e stiamo parlando di sabato primo giorno del 1347 tra l'altro vi anticipo che loro stanno come i pazzi si sono messi a copulare in un modo allucinante e quindi adesso faremo anche il resoconto di quella che è la nostra situazione in casa lucenti ovviamente io che non mi non mi tange proprio assolutamente il fatto che ci siano dei festoni delle cose tutte appese ovviamente non sono elettriche ragazzi sono tutte cose che loro hanno fatto con decoupage cose a portata di mano così con la bla 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 fatevelo andare bene quindi vi stavo dicendo che vi faccio adesso il resoconto sulle nostre donzelle pregnant e sto parlando ragazzi di tante tante donzelle allora innanzitutto Mara Mara che come potete vedere cammina così ci è venuta a trovare Giada una neosposina e anche lei ha un bel pancione ragazzi e abbiamo anche Cordelia peraltro qualcosa mi fa dedurre che avremo delle sovrapposizioni di parto brava allora lei nel frattempo è qui che si prende cura degli animali poi abbiamo Alberico il pater familias che è andato fuori a cacciare e in realtà ragazzi Tancredi che adesso è qui a dare il benvenuto a Giada e lui tra l'altro vuole essere amichevole con Cordelia ma amici e amiche io vi do questa notizia io voglio sperare che Tancredi stia bene perché oggi ragazzi non è soltanto la vigilia della peste e vado metterò in pausa cento volte perché non mi capacito ragazzi oggi in questo primo giorno del 1347 abbiamo tipo tre compleanni e peraltro sono tre compleanni che saranno proprio all'interno di questa famiglia perché sto parlando di Ennio che diventerà un piccolo toddler sto parlando di Emma che diventerà adolescente e sto parlando di Tancredi che diventerà giovane adulto ovviamente diventerà è un parolone perché dobbiamo ovviamente lanciare i dati e scoprire se questa dinastia in qualche modo proseguirà io sinceramente ragazzi vi dico la verità vorrei iniziare dal più piccolo e non perché sia il più sacrificabile però Ennio parliamoci chiaro uh tra Emma e Tancredi spasso ragazzi stiamo nella cacca totale uno perché non so assolutamente è esattamente la cacca di Ennio siamo ma ragazzi uno perché non so assolutamente che cosa loro stiano aspettando cioè le donne incinte cosa stanno aspettando maschio o femmine boh in più abbiamo visto vabbè che Emma non si sposerà quindi è vero che non sarebbe stata la nostra erede ma comunque qualora non ci fossero proprio eredi più si potrebbe seguire anche la linea delle donne ovviamente si perderebbe il cognome quindi onestamente penso che considereremmo comunque abbastanza negativa questa cosa però sì al momento Tancredi è il nostro uomo poi abbiamo ovviamente Giada e Michele che stanno procreando quindi sicuramente è positiva anche questa cosa ma appunto come vi dicevo non è assolutamente sacrificabile il nostro piccolo Ennio anche perché tra l'altro io lo vedo un pestifero secondo me avrà una bella vita in questa famiglia in cui tutti sono lucenti e lui magari è un po' non lo so diavoletto e guardatelo cioè vi faccio vedere proprio lui eccolo qua sta facendo le bollicire amore falle facci vedere oh e sì ragazzi quindi direi di andare subito immediatamente a lanciare il dado per il nostro Ennio andiamo a scoprire se diventerà bebè come una piccola splendora o no allora ragazzi affinché il nostro piccolo Ennio pestifero Ennio passi i dettagli e diventi bebè non devono uscire i numeri 4 e 8 e come al solito fino a 20 ce ne vuole ma sapete che con la ciorta che teniamo potrebbe succedere qualsiasi cosa allora 3 2 1 4 8 3 2 1 mamma sì l'universo ci ha aiutato ragazzi non è uscito 4 ma giusto un po' dopo Ennio allora ragazzi facciamo passare un attimo tutti di età si spera e poi li vediamo tutti nel casso anche se sinceramente questo mettere le mani avanti non lo so se mi porterà bene chissà quanti ne vedremo nel casso sicuramente Ennio ma ragazzi adesso andiamo per difficoltà e quindi poiché comunque Emma già avevamo capito e visto nella scorsa puntata che non si sarebbe sposata direi di proseguire con lei tra l'altro secondo me sarà carinissima anche se non voglio illudermi anche perché appunto lo sappiamo che ci sembrano bellissimi fino a quando non sono bambini e poi crescono e sono unti e bisunti quindi ragazzi tocca alla nostra piccola Emma lanciamo subito il dato per vedere se diventerà o no adolescente dai raga allora in questo caso non devo uscire il numero 7 e non dico niente andiamolo subito a lanciare 3 2 1 chissà se diventerà una balia o una suora non lo so ragazzi è la nostra seconda ragazza che va via senza sposarsi vi ricorderete ovviamente Margaret adoro adoro scusate mi si billa non Margherita adoro tutto che meraviglia ragazzi Cordelia è andata appena ora a mongere la mucca e ha preso 6 bottiglie di latte che bello Cordelia scusami ah deve andare a fare la pipì ragazzi noi facciamo gliele fare queste cose perché lei è incinta dobbiamo prenderci cura di queste donne assolutamente che portano il frutto dei nostri amori e non solo ma ragazzi adesso veniamo alla nota che potrebbe essere dolente spero vivamente di no in questo caso appunto come potete notare dobbiamo far passare d'età o meglio spero che passerà d'età il nostro Tancredi allora ragazzi io sto in ansia totale dovrebbe diventare potrebbe diventare giovane adulto mi direte muoviti si ragazzi ma vorrei che questo stilicidio continui no dai facciamoci forza andiamo subito a lanciare il dado allora ragazzi questo è difficile questo è veramente difficile perché affinché lui diventi giovane adulto non devono uscire i numeri 2 6 11 13 e 14 oddio pure pure 12 ah no ok se uscisse questo sarebbe buono 3 2 1 via bruciapelo raga raga non ci credo da 11 e 13 è uscito 12 si mi sento male ragazzi mi sento malissimo andiamo subito nel cast e andiamo a vedere tutti passare d'età non ci credo 3 su 3 Ennio Emma e Tancredi ragazzi sarebbe stato per me un trauma vedere andare via e non so Tancredi qui no 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 non l'accetto ragazzi ma sta botta di C da dove cavolo è arrivata allora vediamo subito Ennio 3 2 1 ovviamente poi dopo li addobberò ma ve li voglio subito far vedere passare d'età Ennio oh mio dio ragazzi è cresciuto con i capelli no vabbè non ci posso credere ragazzi è cresciuto con i capelli di alberico santissima pace alberico praticamente 2.0 uguale identico tra l'altro ha perso anche quelle sopraccia satanate 1 direi 1 basta facciamocelo bastare indipendente raga io ve la butto lì questo cresce un faigo spaziale vi ricordo l'hashtag pretendenti per lucenti ragazzi iniziateci già a pensare quando partoriscono le nostre donne e createli subito perché voi non potete sapere quando arriveranno questi pretendenti quando saranno mostrati quindi sì sicuramente quando i nostri ragazzacci diventeranno adolescenti ma dovete tenervi pronti quindi mi raccomando iniziate a crearli poi non si sa mai tanto voglio dire una volta che li create le avete messi lì non è che passano le età quindi adoro e ragazzi passiamo alla nostra anzi sapete che vi dico visto che Emma è quella che potenzialmente potrebbe avere un cambio più drastico esteticamente vi voglio mostrare prima Tancredi perché tanto Tancredi sarà tale e quale pace 3 2 1 andiamo a vedere anche lui il nostro adorato giovane adulto scusatemi si sono allargate le spalle in un modo clamoroso allora scusatemi mannaggia la miseria allora sapete che cosa vi dico andiamo al destino sì vediamo no che ho fatto mannaggia la miseria no allora ragazzi lui visto che non voglio fare casino qui perché vorrei che venisse casuale e quindi non voglio sceglierlo io allora Tancredi tu mi dispiace ti faccio passare l'età dopo tanto a lui gli lascio questo look qui e non è un problema io che rompo cose e passiamo ad Emma quindi lui lo facciamo passare l'età fuori rispetto al cast Emma ti amo 3 2 1 ti prego diventami la cosa più bella dell'universo grazie allora al fisico di una modella che non potremo nemmeno sfruttare perché ovviamente non si sposerà sono basita ragazzi bene questo è il prima di Emma e adesso vi faccio vedere il dopo allora ragazzi vi faccio vedere subito Ennio che è passato d'età appunto vi ricordate indipendente un alberico 2.0 e veniamo a noi vabbè poi vedrete i suoi look ma sono più o meno sempre gli stessi tutti i nostri bambini noi ricicliamo non spendiamo soldi per nuovi abiti ma ragazzi la nostra Emma che era già buona e adesso è anche corretta ha ispirazione curatrice questo perché è una cosa abbastanza così neutrale e dobbiamo valutare adesso insieme una cosa quindi guardatela un attimino e vi faccio notare quanto lei assomigli a splendora e io non me ne sono accorta mai fino ad ora cioè ragazzi lei ha proprio le palle degli occhi di splendora o sbaglio poi tra l'altro questa piccola linetta bianca che illude che si vedano i denti ma in realtà e quindi sembra un po' strana la bocca in realtà se la guardate così no ragazzi ho deciso di lasciare i capelli lunghi perché in effetti sono come le aveva prima e alla mamma piacevano tantissimo i capelli lunghi tra l'altro c'ha un petto che la metà basta molto molto carina è veramente ragazzi adorabile veramente ditemi la vostra e come vi stavo dicendo prima adesso ho bisogno di voi perché ragazzi dobbiamo decidere che cosa farà Emma quale sarà il suo destino quindi fermatevi un attimo mettete pausa andate qui sotto nella sezione commenti e andatemi a dire secondo voi quale lavoro dovrà intraprendere la nostra Emma ovviamente lavoro coerente con il medioevo per cui ovviamente potrebbe diventare una badessa potrebbe diventare un'artigiana una contadina potrebbe eventualmente come dire diventare una balia ditemi voi ovviamente questa cosa però magari datemi la vostra idea rispetto a quello che potrebbe essere anche il motivo per cui lei non si sposerà io un'idea ce l'avrei ma ho in mente appunto qualcosina che però vorrei si sposasse con le vostre idee quindi mi raccomando andatemi a lasciare i vostri commenti perché così lo decidiamo insieme avete un po' di tempo per rifletterci quindi fatelo mi raccomando non vi perdete in chiacchiere e poi vediamo se sarà la stessa cosa che avrò pensato io o no e niente ragazzi questa è la nostra famiglia nel 1340 oddio quanti stiamo quanto siamo 47 torniamo subito a vivere perché comunque la situazione non è finita qua e continua ad essere abbastanza critica allora ragazzi innanzitutto volevo comunicarvi che praticamente Alberico che adesso infatti sta parlando dell'accaduto con Emma è tornato abbastanza provato e sconvolto da questa gita praticamente alla ricerca di carne oh cavolo ci serve un po' di acqua e credo che la nostra Mara si è già andata a prenderla e a tal proposito in realtà ragazzi Mara è anche andata a prendere un po' di cose nel bosco nel frattempo doveva andare anche Alberico ma col fatto che si era terrorizzato perché non so cosa cavolo sia successo ora che è andato a caccia non è andato volpi cacchio cacchio no ragazze comunque lei invece Cordelia ha preparato da mangiare io direi chiama a tavola un po' tutti anche perché si è fatta anche tardi però come vi dicevo guardate che è arrivata anche Dorotea ogni tanto arrivano persone a trovarci così inaspettatamente vabbè sicuramente mi fa piacere però dicevo che Mara è andata a prendere del foraggio comunque dei semi un po' in giro ma che cavolo ci fanno qui le volpi io non lo so il delirio totale questa casa veramente ah tra l'altro a proposito Mara aveva fatto un punto croce piccolino oh che carina è qui e ragazzi io direi cos'è o comunque vorrei parlare con queste volpi maledette e anche Arthur ragazzi uh Ennio ha buon appetito perfetto allora paterfamilias se vuoi puoi anche venire qui te lo dico a prendere una porzione vabbè è lì ragazzi uh è venuta di nuovo Giada ragazzi vorrei che proprio Emma parlasse con lei vieni presentazione rispettosa mi fa piacere che loro socializzino eccetera eccetera tra l'altro si sta facendo anche sera quindi non so se Giada può rimanere in giro da sola ancora per molto guardate qui Arthur e Dorotea che stanno parlando ragazzi vi ricordo che loro sono imparentati perché Dorotea è la suocera della figlia di Arthur se ricordate perché appunto madre di Enrico Bonarroti e sicuramente devo dire la verità il fatto di vedere che tutte le famiglie secondarie o non continuino a mantenere degli ottimi rapporti mi fa molto piacere ah tra l'altro ragazzi non so se avete notato c'era non c'era il pozzo che hanno ricostruito in queste settimane loro perché praticamente allora innanzitutto vieni qui a riparare tu grazie Cordelia nonostante tu sia incinta io lo so che lo puoi fare lei è una che mette le mani in pasta ragazzi e infatti ha dato anche una mano a suo marito il nostro Tancredi ovviamente a costruire un nuovo pozzo perché dovete sapere ragazzi che si era sparsa la voce che non avevamo pagato le tasse ma possiamo mai non pagare le tasse noi che stiamo qui ragazzi dai a uno sputo da re evidentemente sarà stato come dire un qui pro quo un qui quo qua e ci hanno portato via il pozzo ci hanno rotto il pozzo dei maledetti Stinky Skunk stanno facendo amicizia ragazzi allora in un solo lotto abbiamo ben uno due tre donne incinte così giusto per dirvi e andiamo a vedere un attimino Mara la nostra marona nazionale che cosa ha preso salvia cilegio a corn ragazzi aspettate perché vi dico lei è andata soprattutto per cucinare degli ingredienti di questo tipo ma mannaggia mancano dei semi e chestnut per fare la farina ragazzi e credo aspettate io passo un po' di cose tipo le uova le posso passare nell'inventario sicuramente passo queste carni nell'inventario di Mara che Cordelia aveva preso Cordelia non so se vuoi andare anche tu a questo punto ah no lei deve fare questo a prendere un po' di semi di foraggio allora magari ci va Emma che ne pensate direi di sì raccogli un fossile adoro e andiamo a foraggiare anche noi ragazzi magari ci segue anche Giada no scherzavo e sono le 18.22 nel frattempo ragazzi direi che a questo punto visto che ci metteremo un po' di tempo è il caso di iniziare anche ad approcciarci ad altre unità familiari tra l'altro direi che ho in mente una chiara unità familiare al momento che sarà la prima che come dire andremo a coinvolgere per questo secondo giorno del 1347 quindi domani domenica e ragazzi spoiler c'era qualcuno che è venuto qui in casa poco fa oh cielo ragazzi ma ci stavamo dimenticando del passaggio dell'età del nostro Tancredi allora andiamo a vedere anche lui è cresciuto amante dei cavalli sì allora mi sa qualcosa mi dice ragazzi che andremo ad approfittare della casa del suo fratello del Michelone nostro nazionale e andiamo a vedere se no ragazzi a lui non do questa aspirazione io a lui do questa allora a parte che già ce l'aveva ogni volta devo buttare un occhio perché se no rischio di fare casini allora andiamo a mettere progeni di successo e confermiamo quello che già avevamo tra l'altro i suoi desideri sono essere amichevole cambiare il pannolino ok ps ragazzi prima di cambiare definitivamente cioè definitivamente cambiare unità familiare per oggi vi dico che queste due donne si stanno veramente comportando benissimo l'una con l'altra e ho visto oh già da ringraziare Mara tantissimo amori ragazzi chissà loro ovviamente adesso stanno condividendo questa gravidanza quindi il loro rapporto si sta sicuramente rafforzando mi fa tanto tanto piacere ovviamente anche Cordelia credo che Cordelia partorirà prima non lo so ed eccoci qua ragazzi nella nostra famiglia di cui vi parlavo e che conoscete molto molto bene che è la famiglia Vermeer innanzitutto vi siete persi proprio per un pelo la scena di sciaratani che da qualche oretta si sta grattando in un modo assurdo mi era uscito uscito il buff della prurigine non so sinceramente per quale diamine di motivo lei sia venuto coincidenze visto quello che sto per dirvi io non credo e di che coincidenze parliamo ragazzi oggi è il compleanno di sciaratani quindi è il secondo sim di oggi che andiamo a scoprire se diventerà o no giovane adulto il fatto che lei si sia grattata per prurigine non mi fa come dire pensare troppo in bene ma sinceramente ora la vedo molto meglio stai stupenda ragazzi non mi sembra smeralda è stupenda e tra l'altro qui abbiamo il piccolino ebbene si ragazzi il piccolo rolando gli ho rifatto il look e quindi ve lo faccio vedere un po' meglio perché quando è passato d'età era del poco sceno vabbè e guardate che carino che faccino chissà da chi avrà preso se da papà o dalla mamma beh sinceramente non offenderti Bernardo ma io spero vivamente che il piccolino abbia preso dalla mamma comunque a proposito di mamma spero che lei rimarrà ancora tanto tanto tempo con noi anche perché ragazzi in realtà loro potrebbero avere altre due gravidanze e finora soltanto questa è andata a buon fine quindi si spera che riusciranno a portarne avanti altri due quindi andiamo subito a vedere come prima cosa se possiamo contare ancora sulla nostra scialatani eccoci qua ragazzi allora di nuovo non devono uscire i numeri 2, 6, 11, 13 e 14 il 12 andrebbe benissimo 3, 2, 1 si raga piango oddio sono troppo felice allora scialatani lo so che sei stanca distrutta da questa vita ma ti pregherei un attimino di passare d'età gentilmente ragazzi io sono fuori di me veramente ma che cavolo sto facendo sono fuori di me totalmente oh cielo giovane adulta vai saratani oh mio dio e il papino come potete vedere sta aiutando Rolando a crescere bene allora lei ragazzi era già estroversa e amante della musica si aggiungerà anche la donna che ci piace la donna che ci piace ragazzi è terrificante ma sì è la donna perfetta per il medioevo ragazzi ordinata scialatani ti sta indirizzando sulla retta via assolutamente sono fiera di te ricordiamoci lei scusatemi ma aveva anche aveva anche lei curatrice mi sa di sì eh sì ragazzi non ci avevo fatto caso che lei ed Emma abbiano la stessa aspirazione che bello allora ragazzi questo letto tra l'altro io non so perché risulta ancora in capo all'oro questo qui confermato ci sono Arthur e Isidora e andiamo a questo punto che avevamo detto che era questo il nostro la nostra camera non so perché non ho assegnato il lato sinistro ma a questo punto ragazzi visto che sono soltanto queste due coppie è vero che qui prima dormiva Diomira ma riassegniamo lato sinistro a Bernardo e lato destro a scialatani ragazzi ora che vi ho assegnato il letto credo che siate anche pronti a cercare di avere un nuovo figlio vedete di festeggiare queste nozze per piacere queste nozze ma sono ubriaca oggi direi di sì volevo intendere questo passaggio d'età ovviamente allora Bernardo per piacere lascia tutto e vai a copolare con tua moglie tra l'altro ragazzi guardate quanto è carino il piccolo Arthur sta crescendo longilino come non mai molto molto carino tra l'altro lui vorrebbe cercare di avere un figlio ah giusto poco fa l'ho fissato ragazzi è assurdo ok allora Bernardo scusami visto che io cioè se no ti censuro in tutte le lingue del mondo cerca di avere un figlio con Sharatani visto che è proprio quello che volevi fare mogliettina mia lui puzza as hell ragazzi andate mi raccomando oddio io spero che la prurigine non passerà anche a Bernardo benissimo bravi ragazzi bravissimi ok io credo tra l'altro che possa bastare anche questo per soddisfare il desiderio di Bernardo perché non mi dice fai un figlio mi dice proprio cerca di avere un figlio quindi in teoria non servirà il parto come dire e potrebbe bastare direttamente cerca di avere un figlio andiamo a controllare peraltro ragazzi dov'è la nostra tecla eccola qui lei tra quanto tempo passerà d'età fatemi un attimo controllare perché anche per lei ragazzi a proposito ragazzi a proposito allora tecla passerà d'età se sopravvivrà ovviamente nel 1352 quindi diciamo che abbiamo veramente non tantissimo tempo scusate me l'ho censurata io non abbiamo tantissimo tantissimo tempo tutto coerente e anacronistico però per raccogliere i vostri pretendenti quindi mi raccomando pretendenti per Vermeer per quanto riguarda tecla e ovviamente anche Arthur si spera ovviamente che anche Rolando e i futuri figli avranno bisogno di pretendenti quindi datevi da fare ecco qua ragazzi allora abbiamo soddisfatto il suo desiderio e vuole essere adesso amichevole con Arthur che carini allora direi che questa giornata è iniziata nel migliore dei modi ragazzi quindi sicuramente adesso quello che mi viene da dire è scampato pericolo almeno per quanto riguarda loro ma in realtà credo proprio che dobbiamo prepararci per i parti quindi se a sciaradani manca ancora tanto in realtà qualcosa mi dice che oggi partorirà almeno una delle nostre donne che abbiamo visto poco fa incinta oh mio dio ragazzi nella speranza che Tecla ci arrivi a diventare adolescente visto che è appena stata inseguita dalle api che sono un po' agitate in effetti in effetti Arthur adesso è venuto qui a raccogliere innanzitutto tutto quello che c'è qua che mi dice piangi morti vuole fare un figlio oh mio dio ragazzi e qui a questo punto richiedo ufficialmente a voi nuovamente supporto ditemi che cosa ne pensate di questa cosa perché era proprio in realtà una domanda che volevo farvi oggi stoppate il video per piacere anzi quando avrò finito di parlare e lasciatemi il vostro commento ovvero secondo voi Isidora e Arthur sono pronti per avere un figlio possono avere un figlio io adesso Isidora la vedo lì come una matrona che sta controllando il corretto come dire la corretta riuscita di questa famiglia possiamo concederci un figlio io credo che il loro rapporto sia cresciuto molto molto bene e Arthur lo vuole non vuole soltanto dei nipoti vuole proprio dei figli e sono contenta di questa cosa perché in realtà era un pensiero che mi ero fatta pure io ma ditemi la vostra ragazzi quindi avete già due domande uno il lavoro che potrebbe fare la nostra Emma e la nuova vita di Emma due possono avere un figlio Arthur e Isidora aspetto i vostri commenti e lui nel frattempo adesso stavolta invece che vendere tutto è andato a raccogliere in realtà avremo anche effettivamente bisogno di un po' di soldini non ve lo nego ma perché non posso spostare le uova io non lo so non ve lo nego però per il momento visto che ci serve anche per il cibo va bene così allora ragazzi in realtà non posso ancora dare del cibo vi dico pure semplice verità perché sto cacchio di coso ditemi se posso prendere qualcosa ma io veramente fai evolvere sicuramente sì e andiamo anche a fertilizzare con un po' di uva che vi devo dire ma sto a me si baggano in continuazione tutti allora una volta uno una volta l'altro una volta tutto l'orto stavolta infatti l'orto dei lucenti al momento è buggato il loro orto si è sbaggato quindi bene così e poi andiamo anche visto che loro sono infuriate in effetti molto molto scontrose andiamo innanzitutto a stringere un legame con l'oro ad applicare la terapia antiacaro a raccogliere la cera e raccogliere il miele tutto quello che possiamo fare ragazzi ovviamente qui se ne è andata la mucca inutile dirvi o è morta sapete che non mi ricordo Arthur vediamo se lo pungeranno e ops si ragazzi ho santa pace mannaggia era partito bene mi avevate illusa vabbè allora ragazzi mentre loro qui si dedicano alla loro esistenza Isidora per piacere viene un attimino anche tu a preparare lo sapevo ragazzi passiamo subito da Cordelia con immediatezza ragazzi sta succedendo sta succedendo la nostra Cordelia sta appartonendo e tra l'altro se notate le ragazze di casa quindi la nostra Emma che adesso è cresciuta sia adorabile e Mara sono qui in stanza per aiutarla oh santa pace sarà un maschio sarà una femmina saranno gemelli e perché non vedo la pancia che cosa è successo è una femmina oh dio raga vorrei gioire ma in realtà spero che siano gemelli perché cacchio se sono una femmina siamo inguaiati i nostri eredi mannaggia allora ragazzi visto che è domenica io la vorrei proprio chiamare domenica domenica allora io non la vorrei chiamare domenica proprio però visto che il nome maschile dominico dominico c'è io la chiamerei domenica domenica dai potrebbe portare come si dice fortuna ragazzi mannaggia non c'è il maschio kribius ragazzi allora domenica io ti adoro e veramente ti amo tantissimo le tue zie sono qui eccetera nonne cheat non è acquisita ma la situazione è abbastanza grave cioè tu sei una femmina capito lady oscar la faremo crescere così con questa con questo eh chiedo fisso che doveva essere un maschio ma in realtà non è finito qui ragazzi perché dobbiamo scoprire mannaggia la miseria se il porto è andato a buon fine quindi andiamo subito a lanciare il dato per mamma e figlia e vedere come è andato allora ragazzi in questo caso la nostra bambina non dovrà avere il numero a sorteggio il numero ovviamente uno quindi mi direte è molto semplice io non mi voglio assolutamente perdere in chiacchiere e non dovrà uscire ovviamente appunto il numero uno tre due uno sto male allora adesso non ci interrompiamo non perdiamo questa energy mandatemi le vostre good vibes perché è vero che non è un maschio ma è sempre bello avere una bambina anche perché ricordiamoci che io dentro di me sono più felice anche che è una femminuccia ma ricordiamoci come vi ho detto prima che nel peggiore dei casi comunque possiamo continuare la sirpe con le donne anche cambiando però cognome allora non devono uscire i numeri uno cinque sette dieci quindici e venti via almeno fino a domani la nostra piccola mamma ragazzi quanto sono fiera di voi allora tra l'altro la piccola mammina che tra l'altro devo dire sta scoprendo tanto anche di se stessa ragazzi perché lei è venuta comunque in questa unità familiare abbastanza come dire oh ma non c'è lavabbo lì l'abbiamo tolto cosa è successo è venuta qui in questa famiglia anche abbastanza non dico ribelle ma comunque da donna molto indipendente eccetera eccetera e tutto questo ha sicuramente portato cordelia cioè tutto il fatto di appunto aver ingrandito la famiglia sia amichevole il fatto di aver ingrandito la famiglia di aver come dire anche imparato tante cose sulle altre persone questi altri membri dell'unità familiare la convivenza con gli altri ha sicuramente portato cordelia ad essere un po' meno come dire solitaria ecco e questa cosa mi piace tantissimo delle famiglie che stiamo creando perché sono famiglie grandi e numerose e quindi crea qualcosa di qualità superiore alla scarsa sarebbe un po' difficile questo momento potrebbe essere un po' difficile allora guardiamo scusatemi ma loro stanno litigando allora Ennio e oh amori scusatemi ma loro sono cugini allora un attimo solo adesso ho un attimo un lapsus perché allora abbiamo a parte vabbè Cecilia ma abbiamo Splendora qui e poi abbiamo Ennio qui quindi Splendora ed Ennio dovrebbe cioè Splendora dovrebbe essere nipote di Ennio eh sì ragazzi è assurdo perché sì Ennio è suo zio sta succedendo davvero il caos raga guardate abbiamo soltanto Tancredi e non abbiamo Matilde nell'albero genealogico ah ora sì mamma mia ragazzi non mi fate venire un infarto oh non credi vero morto per l'ilarità scuola di polizia scuola di l'arità allora ragazzi Tecla e Arthur nel frattempo nonostante stiano crescendo veramente benissimo non vi nego che in testa loro un pochettino c'è il pensiero del fatto che la mamma sta creando una nuova famiglia wei 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 splendora stia creando una nuova famiglia con qualcun altro non deve essere assolutamente facile me ne rendo conto tu tra quanto partorisci nel frattempo eh ragazzi agli sgoccioli anche lei ma vi dico la verità vorrei assicurarmi del fatto che almeno Giada stia bene e quindi direi di andarci a spostare lì anche perché tra l'altro da quando loro si sono sposati non siamo andati mai da loro ragazzi sta per succedere io lo sapevo adesso che siamo venuti qua lei era già entrata in travaglio mannaggia la miseria sta per avere un figlio mio dio maschio femmina non lo so ragazzi oh mio dio Michele Michele non puoi entrare Michele ragazzi ragazzi allora Michele non può e non deve entrare Michele ti prego Michele ti prego no non può assistere ragazzi allora mi vado a togliere ventisimo Leon invece di mille ne avremo ne avremo un po' di meno ragazzi dai venti forse è troppo poco non lo so non lo so allora ragazzi anche in questo caso è una femminuccia santa pace oddio ma questo è un complotto scusatemi è domenica quindi la tentazione di chiamare anche lei domenica è veramente forte ma a questo punto io vi dico che la vado a chiamare ragazzi questo è un nome che io adoro tantissimo avevamo già dato in precedenza un nome simile e purtroppo decedette si può dire nel 39 la piccola viola ma andiamo a chiamare questa nuova arrivata violante credo che non l'abbiamo mai dato come nome e violante lucenti violante era sempre una lucenti quella mannaggia a te guarda adorata ma anche in questo caso ragazzi guardate un po' Michele che sta facendo sta leggendo il libro sacro coincidenze io non credo comunque visto che sono onesta ragazzi e non baro allora io direi che ci andiamo a togliere un po' di soldini e ci andiamo a mettere 900 facciamo 950 dai questa è la multa per te Michele te lo dico allora ragazzi in realtà adesso dobbiamo andare urgentemente a scoprire se il parto è andato a buon fine sia per la nostra Giada che per la piccola violante quanto vi amo andiamo subito a lanciare nuovi dati due nuovi dati ragazzi quanti cavoli di dati ci sono mannaggia però meno male la fortuna ci sta accompagnando considerato che la peste è tipo dopodomani quindi ok ragazzi allora ovviamente non devo uscire il numero uno per Giada via senza mentre invece per la piccola violante adesso non dovranno uscire i numeri come al solito 1 5 7 10 15 e 20 madonna raga che botte che botte torniamo a vivere sì mi commuovo raga lui sta leggendo la Bibbia qui per benedire questa nascita no 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 mamma Michele sei un fusto ma quanto sei simpatico vuole far credere a tutti che sta a leggere ma in realtà non credo ragazzi però penso che la religione in effetti continua ad essere una cosa molto importante per tutta la nostra famiglia e questa cosa mi fa molto molto piacere ma attenzione mamma mia io devo fargli una foto allora ragazzi dicevo adesso per festeggiare questo momento e la nascita della sua prima figlia il nostro Michele decide di fare un passo molto molto importante ovviamente anche per lui ma proprio per la sua famiglia e quindi ragazzi andiamo subito a mandare una missiva ovviamente a mandare una lettera imbucare una lettera e far portare una lettera dai piccioni per poter contattare il ranch e adottare un cavallo per 250 simoleon e quindi ragazzi andiamo subito a vedere se appunto lui si dà da fare scrive sul taccuino che ha bisogno di un cavallo e vediamo che cosa ci dice il ranch a questo punto con una coppia buffer table a proposito ragazzi loro avevano banchettato nuovamente qui ma io credo che questo table lo possiamo anche andare a buttare poi di volta in volta lo acquistiamo ma preferisco avere un quantitativo un poco più elevato di soldi anche considerato che siamo messi veramente veramente male con loro ragazzi guardate quanti cavalli e tra l'altro mi dice a causa dell'ambiente di provenienza i cavalli adottati hanno tratti più difficoltosi e possono quindi richiedere più cure e attenzioni tariffa di adozione ragazzi allora la situazione è davvero assurda perché vediamo asso come tratti ha aggressivo timoroso e ribelle frittella spirito libero tranquilla e ribelle ok frittella già sinceramente lui è già timoroso ma è anche aggressivo invece spirito libero e tranquilla due su tre positivi mi sembra puledrina ma sono tutti cuccioli ah no lui è stallone lei è una puledra no ragazzi adorerei per il momento frittella in pole position fulmine è una giumenta quindi anche lei è femmina bisognosa timorosa aggressiva allora lei è ribelle lei è aggressiva goloso aggressivo timoroso energico stallone cavallo adulto puzzle puledro ribelle tranquillo e timoroso bisognosa ribelle aggressiva scheggia allora scheggia ti voglio bene ma tu sicuramente no allora ragazzi siamo tra frittella e fulmine però no allora scusate fulmine cavallo anziana quindi no abbiamo anche in realtà timoroso energico goloso questo non potrebbe non sarebbe male ma sinceramente vorrei vedo bene frittella nella nostra famiglia ed eccola qui la nostra piccola frittella ragazzi tra l'altro da qui non so se notate ma si vede il castello marcondirondirondello frittella ti adoro è la nostra prima cavallina ragazzi dopo tanti tanti anni 47 anni non a caso abbiamo un cavallo ad oro allora attenzione perché qui ci dice possedere un cavallo è una scelta che richiede duro lavoro addestramento e tanta dedizione per prenderti adeguatamente cura di un cavallo ti separeranno altri oggetti e quindi ovviamente per esterni giaciglio pallone barilli ostacoli ippici eccetera allora abbiamo un bel po' di cosine qui quindi la nostra piccola frittellina può venire già ad esercitarsi forse è piccola ah no giustamente devo salirci sopra ma credo che sia piccola oddio ragazzi mi devo rivedere un attimo bene le cose per i cavalli acquisita l'abilità di temperamento la nuova abilità di temperamento di frittella l'aiuterà a socializzare con i sim e con gli altri cavalli con l'aumentare dell'abilità a socializzare diventerà ancora più facile ragazzi sta crescendo bene adoro ok allora nel frattempo mamma giada vieni qui a nutrire la piccolina e nutri a latta assolutamente e godiamoci queste altre ore con lei anche perché ragazzi domani e sto dicendo quindi domenica dobbiamo scoprire se le due nasciture cioè nasciture le due neonate e quindi parlo di domenica e di violante se passeranno o no d'età amorine ha già raggiunto il livello di genitorialità uno benissimo incoraggia cavalli ad accoppiarsi tra l'altro è un desiderio che io continuo ad avere qui ragazzi ma non so quanto possa avere senso considerato che c'è amore che c'è no ragazzi lei è timorosa quindi Michele scusami non puoi socializzare con tua moglie in questo momento perché la nostra frittella ecco qua è spaventatissima prova a calmarla ragazzi dobbiamo renderci conto che comunque sono cavalli che vengono da posti non assolutamente felici non a caso l'abbiamo adottato viene da lontano chissà come è stato trattato ma credo che Giada ci abbia messo del suo perché sapete i pregressi la vita difficile che ha avuto Giada prima di questo momento e credo che anche a lei faccia molto piacere avere una cavalla che ha bisogno di di assistenza diciamo perché noi siamo qui per offrirgliela quindi frittella come va vediamo come va adesso spazzoliamola anche un pochettino è felice grazie ai tocchi delicati che ha ricevuto i piccoli gesti di gentilezza ti adoro fantastico allora sì ecco qui allora andiamo qui e poi chiamiamo date frittella così la facciamo venire qui anche perché ragazzi c'è un bellissimo spazio per per lei quindi spero che sia felice che abbiamo pensato a tutto assolutamente abbiamo anche dei cigni tra l'altro nel laghetto che papà meraviglioso ragazzi hanno appena finito di mangiare un po' di gruel preparato da Giada e il papino è venuto a collare un po' la sua dolce violante e tra l'altro adorati ragazzi questa coppia mi piace un sacco e tra l'altro lui ha segnato anche vediamo un attimino fai gli addominali ha segnato il giaciglio al frittella che tra l'altro scusatemi andiamo a centrare la visuale proprio su di lei frittella tu puoi andare anche dentro non bagnarti allora tra l'altro ragazzi sono le 10 e a mezzanotte subito un minuto veramente dopo possiamo scoprire se violante e la piccola dominica passeranno o meno d'età a questo punto visto che siamo qui è vero che in teoria dovrebbe passare d'età prima dominica ma stiamo lì ragazzi direi che aspettiamo un attimino la mezzanotte e vediamo se lei potrà diventare una lattante nel frattempo vi faccio notare che Michele continua ad essere assolutamente oh mio dio guardate assolutamente preso dalla Bibbia è veramente molto molto interessato ai testi sacri ma ragazzi credo sia anche perché appunto sta mettendo tutto nelle mani del signore e devo dire che fa bene scusate mi fa impazzire questa vista cioè di frittella che è venuto a qui a chiamare il papà amore frittellina che c'è fame ha fame ed eccoci qua ragazzi è passata la mezzanotte e adesso senza ulteriori induggi andiamo a scoprire subito se la nostra piccolina la nostra violante lucenti figlia di Giada e Michele passerà d'età e diventerà lattante ma affinché questo avvenga non devono uscire i numeri 12 16 e 18 quindi il 12 no abolito 3 2 1 piango ragazzi tantissimo allora facciamo subito passare d'età la nostra piccola violante tra l'altro nel frattempo il papino è impegnato con la piccola frittella devo dire ragazzi che questa cosa mi fa impazzire anche perché in onore della piccolina grida in modo incoerente lui ha paura in onore della piccolina chiedi al cavallo di mangiare oh mio dio ragazzi scusa oddio è vero ma le devo dare io da mangiare ma sarò cretina santa pace allora violante nel frattempo è cresciuta al solare no vabbè ragazzi sono rincretinita cioè io la chiamavo qua mentre invece le devo dare il biberon nutri dalla mano allora deve essere grande quindi cura dei cavalli nutri col biberon amore mio allora ragazzi violante è passata d'età già terrorizzata e scusatemi ha dei capelli nerissimi non ci credo poi la vedremo bene nel cast ragazzi ma sono senza parole allora ragazzi sono veramente stasiata lei è violante tra l'altro ho deciso di metterle sempre i piedi scalzi perché secondo me ci sta benissimo nella loro fattoria e oddio in realtà così sembra tipo Morticia Adams ma cercherò di metterle un po' di look carini sempre coerenti con l'epoca ovviamente direi che non è questo il caso comunque sono meravigliata dal fatto che abbia i capelli proprio nero corbino come la mamma praticamente ma visto che siamo nel cast vi faccio sbirciare anche la nostra piccola frittella non vedo l'ora di vederla cresciuta ragazzi chissà quanto ha sofferto piccolina e ci sta alla fine che abbia questo carattere ma crescerà insieme alla nostra piccola violante questa cosa mi fa impazzire vi giuro perché è stato un regalo non solo alla famiglia ma anche soprattutto alla figlia di Michele quindi non vedo l'ora di vederle crescere insieme preghiamo e che la Bibbia sia con noi adesso cambiamo unità familiare perché non è l'unico compleanno di oggi oh mamma mia ragazzi qua la situazione si fa veramente ingarbugliata perché a parte che la piccola Dominica adesso sta piangendo ma Mara tra poco dovrà anche partorire quindi succederà di tutto nel giro di poche ore direi settimane praticamente per loro quindi ora senza ulteriori indugini andiamo a scoprire se la nostra piccola Dominica può diventare o no lattante l'abbiamo visto poco fa quindi non devono uscire i numeri 12 16 18 corro si oddio ragazzi ma che queste tutte le preghiere che sta dicendo Michele ok adesso andiamo a scoprire quindi se lei uscirà bionda mora rossa chi può dirlo in questo caso dovrebbe uscire ovviamente ma qui mi taccio biondino probabilmente vediamo andiamo subito a far passare d'età la nostra piccola violante guardate che c'è la sorellina la piccola splendora qui che sta guardando 3 2 1 qui ci sono poche alternative eh eh si ragazzi ha un capello biondino e lei è cresciuta a cauta tra l'altro che meraviglia ok ragazzi allora andiamo anzi non l'andiamo ancora a vedere nel cas perché ci sono un po' di cose in ballo nelle prossime ore e vediamo se quindi ci riguarderà anche tra poco oh mio dio ragazzi quanto è bella sempre il latte di capra le danno ah no questa qua è di mucca per tutto il latte che abbiamo preso in fattoria prima ragazzi sono estasiata dalla bellezza credo che possa essere proprio un taglio di occhio preso proprio dalla mamma da Cordelia oh vi adoro ma qualcosa mi dice che la pipì che sta scappando a Mara potrebbe significare anche qualcosa di più vediamo e lo sapevo ragazzi infatti Mara è entrata in travaglio allora per piacere ragazzi miei voi andate tutti qui gentilmente portatevi anche alberico che nel frattempo è andata a nuotare ragazzi alberico mi sembra che si sta un po' rincredinendo comunque tra l'altro seppure dimagrito io non lo so se il fatto di aver sposato Mara l'ha fatto un attimino oh lei è qui che bello sta agevolando come dire la fuoriuscita ragazzi comunque dicevo l'ha fatta un attimo tranquillizzare dal punto di vista del prendersi cura della famiglia perché sa che c'è comunque Mara vicino a lui che è una donna forte tenace e tutto però questo non vuol dire che deve abbassare la guardia tra l'altro c'è anche da dire che c'è comunque anche suo figlio in casa e lui deve comportarsi da degno nonno ovviamente allora per piacere viene a partorire Mara ti prego madonna mia ragazzi sarà un maschio sarà una femmina non lo sappiamo ovviamente noi speriamo che sia un maschio guardate qui ma comunque ragazzi io non ce la posso fare ma Splendora Junior lì guarda sempre la sorellina e vediamo se è maschio o femmina ma no ragazzi tre femmine su tre parti non ce la faccio allora non so perché mi parte sempre il cognome sbagliato come perennio ovviamente è Lucenti e ragazzi questa volta mi voglio rovinare la chiameremo Lucia Lucenti benvenuta gemelli uh cacchio uh cacchio ma bene ragazzi allora andiamo subito a scoprire se Mara e la piccola Lucia Lucenti riescono a superare il parto greggiamente ed eccoci qua allora non deve uscire il numero uno per Mara via così abbruscia pelo ma tu ma tu mi sento male ok è scampata per un pelo e vediamo invece la piccola Lucia non devono uscire i numeri 1, 5, 7, 10, 15 e 20 raga no vabbè non ci posso credere ma che cosa cavolo sta succedendo in questa famiglia veramente il destino ci sta mettendo il suo ragazzi per agevolarci in tutto e per tutto e si spera oh ha fatto il ruttino la piccolina e domani però ovviamente dobbiamo scoprire se la piccola Lucia potrà diventare lattante o no ma ragazzi non è finita qua non ci crederete ma sì perché oggi è il compleanno anche di qualcun altro e nello specifico adesso la raggiungiamo ed eccola qua ragazzi la piccola figlia dell'adulterio la nostra piccola di Omira stiamo per scoprire se diventerà o no una bella bambina è già una bellissima bebè tra l'altro come potete vedere spesso la zia si billa si prende del tempo per come dire farle compagnia anche distrarla un po' dal chiacchiericcio che c'è in giro perché vi dico la verità ragazzi il periodo che sta passando Margherita non è assolutamente felice questo perché da quando è arrivata la notizia all'orecchio praticamente di tutti che la bambina è figlia di Roberto ovviamente tutti pensano che lei sia una maledetta e che abbia anche ucciso il suo ex marito cioè il suo marito finché morte non ci separe è poi morto ovvero Enrico che poi è anche qui la sua lapide è ancora qui presente tra noi c'è da dire che Roberto poiché abbiamo scoperto negli episodi nelle settimane e mesi anni precedenti è il figlio di Roxy il maledetto figlio di Roxy che abbiamo rapito per portarlo praticamente in salvo se ricordate quando era in fascia anche lui chissà se in realtà questa bambina è stata concepita in un modo che in realtà non ha diciamo non prevedeva che Margherita fosse cosciente magari lui è uno stregone non lo sappiamo comunque per il momento il frutto di questo atto che non chiamerei d'amore ma che potete trovare qui vicino alla lapide di quello che lei anche poteva pensare essere suo padre è lei ed è stupenda e adesso nemmo a scoprire se diventerà o no bambina allora ragazzi in questo caso ci siamo andati vicino perché non devo conoscere i numeri 9 e 19 quindi anche qui veloce applausi per fibra fibra qua mi demonetizzano quindi mi sto zitta ma raga allora ragazzi io ve lo dico mi sento male ma veramente mi sento male cioè non poteva essere un episodio migliore come ultimo episodio prima della peste a questo punto andiamo come al solito sbaglio qui e andiamo subito a vederla diventare bambina con estrema velocità figlia mia oh sto blaterando col fratello e pensare che questa casa poteva ospitare anche un altro bambino il loro cuginetto figlio di Sibilla allora ragazzi al 3 mi ero data come obiettivo stava per uscire perfida ed è uscita schifiltosa ma stiamo lì in effetti allora io mi darei come mentale perché io ce la vedo una un pochettino così schifiltosa e quindi sarà molto problematica ma per il momento non è ancora cattiva quindi questo vuole dire che abbiamo ancora tempo per temperarla ragazzi nel frattempo suo fratello fratellastro fratello la guarda un po' storta ma questa è la situazione comunque ragazzi vorrei tanto tantissimo soffermarmi qui con voi ma non è finita qui perché c'è ancora qualcosa da fare e aspettiamo però martedì ebbene sì ragazzi parliamo di nuovo di lei della nostra lucia lucenti perché stiamo per scoprire se questa piccola infante può diventare lattante quindi andiamo subito sul dado oddio anche in questo caso il 12 non dovrebbe uscire perché non devono uscire i numeri 12 16 e 18 ragazzi io non ce la faccio ragazzi vi giuro sono senza parole considerato l'ultimo compleanno che non è questo dell'anno che ci aspetta spero che visto che ce ne manca ancora uno andrà tutto bene andiamo a vedere se sarà oh è rossa è sensibile amore mio ok ok allora adesso ragazzi andiamo a vedere tutte nel cast entrambe allora ragazzi ecco a voi dominica che ha un taglio degli occhi veramente particolare poi la adobberò per bene ma direi di lasciarle i capelli di lasciare loro i capelli e il tutto che con cui sono cresciute che mi sembrano adorabili lucia sinceramente ragazzi mi sembrano un sacco transmarina e poiché all'epoca appunto diciamo che abbiamo un valore affettivo mi sa che è stata proprio la nostra prima primissima bambina che abbiamo avuto e direi di lasciarle questi capelli ora le metto giusto qualcosina per farvela vedere così e poi la concio bene per le feste anche perché vorrei scaricare qualche altro materiale qualche altro cc tra l'altro a tal proposito ragazzi vi ricordo su discord trovate le chat anche proprio per la decades di cui proprio una chat dedicata al ai cc medievali quindi mi raccomando se avete anche suggerimenti link eccetera andateli a lasciare lì detto ciò questa è la nostra famiglia per il 1347 ragazzi per i lucenti finisce qui l'excursus in questa giornata infinita per loro un anno e andiamo a fare l'ultimo step per poter dire che l'hanno è andato alla grande ed eccola qui la nostra famiglia Kazama ragazzi oggi il nostro camon mentre la sua mammina sta facendo il punto croce la sua nonnina sta pulendo un po' in casa e sta venendo a chiacchierare con la figlia io le adoro queste due ragazzi davvero credo innanzitutto vi voglio dare questo annuncio che Clelia stia valutando con proprio seriamente di avere un futuro amoroso e in realtà al momento sta tepporeggiando per il fatto che sua figlia ha portato a casa appunto suo marito ed è vero che in realtà questa è proprio casa sua quindi Clelia potrebbe cacciarli tranquillamente fuori ma ragazzi dopo aver perso tanti tanti figli vedere crescere la famiglia di Alma per sua mamma è qualcosa di troppo importante non può metterla in secondo piano rispetto al suo desiderio di avere un altro uomo e poi il fatto che il suo primo nipotino si chiama Camon è veramente per lei troppo importante da seguire passo passo e a tal proposito ragazzi adesso andiamo a scoprire se il piccolo Camon Torre ci farà urlare sì finalmente un anno perfetto quindi mai dire mai andiamo subito a lanciare il dato per il nostro Camon e andiamo a scoprire se può diventare bebè allora ragazzi affinché Camon diventi un bebè non devono uscire i numeri 4 e 8 quindi via non ce la faccio sì 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 ed eccoci qua ragazzi senza ulteriori indugi andiamolo a vedere bebè e sarà l'ultima cosa che faremo per questo anno oh mio dio no ragazzi non ce la faccio allora assolutamente due e tre vediamo è curioso oh santa pace ragazzi miei allora io penso che siamo stati ufficialmente graziati dal signore voglio augurarmi che non voglia poi colpirmi alle spalle in un secondo momento per la peste fatto sta che abbiamo un bel po' di sim adesso vivi che possono affrontarla questa peste nel migliore dei modi il nostro Camon è uno splendore ragazzi sicuramente tanto hanno fatto i geni di papà Leonardo ma devo dire che tanto vedo anche di Alma e di Camon senior e il suo spirito sicuramente è stato qui con noi per consentirci di arrivare fino a questo punto tutti insieme ragazzi io sono esterefatta da questa puntata da questo episodio lo definirei episodio perfetto ma fatemi sapere qual è la vostra versione dei fatti sinceramente oggi è martedì e concludiamo quindi con questa vista meravigliosa di questa famiglia che ne ha subite veramente tante ma ha avuto finalmente la sua rivincita terminiamo il 1347 ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente come al solito vi chiedo per piacere di mettere un pollice in su e di lasciarmi un commento per me fondamentale e se siete arrivati fino a questo punto del video ragazzi scrivetemi nei commenti botta di e non mi scrivete c puntini puntini però botta di ragazzi puntini sospensivi così non abbiamo proprio assolutamente dubbi che siamo arrivati fino alla fine che voi siete arrivati fino alla fine di questo video perché ragazzi il meglio di così non poteva andare io sono esterefatta comunque vedrò di mettere piano piano le foto se ancora non vi sto caricando in galleria le famiglie è perché non voglio fare spoiler a chi ha gli episodi ancora non li ha visti ma direi che adesso piano piano li carico ragazzi le famiglie aggiornate anno per anno così che vi possiate magari divertire anche voi e mi farete sapere se le aggiungerete alle vostre partite delle ultime decadessimi sim quindi detto ciò ragazzi mi raccomando continuate a ricordarvi gli hashtag per le nostre famiglie in questo caso con camon faccio aprire ufficialmente anche l'hashtag pretendenti per torre ragazzi perché il nostro nuovo cognome qui è appunto torre e quindi mi raccomando siate numerosi vi aspetto nel prossimo episodio dell'ultimate decadess io vi mando tanti tanti baci e come al solito continuate a seguire anche tutti gli altri video che usciranno qui sul canale mi raccomando cliccate iscriviti e cliccate la campanella per ricevere le notifiche su discord se avete qualsiasi tipo di dubbi scriveteci e scrivete anche a me personalmente su instagram per qualsiasi cosa a presto ciao ciao ciao